Mezzo milione per l'export di marca. Treviso Glocal conferma per il 2015 il suo ruolo a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese trevigiane e rilancia il suo impegno con una nuova visione strategica. La società della Camera di Commercio di Treviso ha presentato il nuovo programma di iniziative che metterà in atto per i prossimi 12 mesi e che potranno contare sul rinnovo da parte dei soci di un contributo di 455 mila euro. Il programma, oltre a garantire i servizi già consolidati, introduce nuove azioni strategiche con cui Treviso Glocal metterà in campo un rinnovato modello di promozione integrata. Stiamo guardando, come dicevo prima, una serie di nuovi servizi a chi si appresta all'azione per l'export, all'azione di supporto alle traduzioni, all'azione di supporto alle nuove frontiere che sono più complicate di quello che è normalmente operare nel nostro paese, ma attraverso l'assistenza tecnica di Treviso Glocal e degli operatori diventa facile e anche di buona disponibilità. Per cui un invito alle imprese è proprio a mettersi in contatto con Treviso Glocal per guardare all'export e quello che riguarda il mondo della internazionalizzazione. Tra le novità del 2015, un intenso programma di attività legata all'incomment turistico economico, cui saranno destinati 117.000 euro. Altri 123.000 finanzieranno fiere e missioni all'estero, mentre i restanti 215.000 euro del budget andranno a contribuire alla promozione territoriale, ovvero alla realizzazione di eventi e manifestazioni nelle città trevigiane. Oggi l'aspetto integrato riguarda anche il marketing territoriale, cioè la dimensione che si porta presso quello che è il valore del territorio. È prevista tutta un'attività di incami, cioè di soggetti che verranno a visitare questo territorio. Pensiamo oltre 100 buyer verranno contattati per visitare, per girare le aziende, per visitare i luoghi di natura anche turistica e di accoglienza, integrando le attività delle imprese che vanno all'estero con quelle del territorio. Un programma articolato pronto a soddisfare tutte le esigenze delle aziende locali per le quali l'export oggi più che mai rappresenta una necessità. Lo sforzo di cui si sta parlando all'interno di Treviso Glocal è proprio quello di cercare di, da una parte, continuare ad aiutare le imprese a internazionalizzarsi o quantomeno a riuscire a trovare degli spazi di mercato all'estero perché il mercato italiano è assolutamente non sufficiente a mantenere i volumi di imprese che abbiamo, ma dall'altra parte è anche importante riuscire a portare dall'estero dei turisti, dei visitatori, delle persone che possano avere interesse alle nostre tecnologie in maniera tale che anche in questa maniera cercare di rinforzare le attività economiche del territorio.